Quest'anno sono state esaurite tutte le richieste dei comuni costieri Liguri per utilizzare fondi messi a disposizione dalla regione per effettuare interventi sulle spiagge e migliorare l'accessibilità alle persone disabili. Lo ha evidenziato l'assessore regionale Aldemagno Marco Scaiola, spiegando che i 100.000 euro sono stati stanziati dalla giunta regionale per il 2019 e erogati ai comuni delle quattro province Liguri che ne hanno fatto richiesta. Genova, Renzano, Camogli, Sestri Levante, Lavagna, Imperia, Ospedaletti, Loano e Albissola Superiore. Si tratta di risorse derivate dall'imposta sui canoni demeniali marittimi. Scaiola ha anche sottolineato come il fatto che tutte le risorse siano state esaurite sia segno della grande sensibilità sul tema e della conoscenza da parte dei comuni degli strumenti messi a disposizione dalla regione. L'obiettivo indicato da Marco Scaiola per l'anno prossimo è quello di reperire altre risorse e fare in modo che la regione diventi sempre più un modello di accoglienza diffusa.